La dottoressa Mariella Pafumi e la dottoressa Nadia Inforna di G-Gruppa, una delle più importanti agenzie per il lavoro italiane. L'importanza che ha per voi, dottoressa, la partecipazione a questo tipo di eventi? Dunque, la partecipazione di G-Gruppa a questi saloni del lavoro nasce sicuramente dall'interesse di favorire l'ingresso di giovani neolaureati e neodiplomati nel mondo del lavoro, favorendone il primo contatto con le aziende e aiutandoli tramite attività di orientamento ad acquisire quelle competenze professionali specifiche che sono in linea con le esigenze dell'attuale mercato del lavoro. Fondamentale per noi è partecipare a questi saloni in un periodo del genere nel quale comunicare è diventato l'elemento discriminante per la ricerca e il lavoro. Tra l'altro comunicare il lavoro, ovvero comunicare le offerte di lavoro in saloni del genere che consentono il contatto diretto con un cospicuo numero di risorse è assolutamente fondamentale. Quindi cosa vi aspettate concretamente da Jobsud? Sicuramente ci aspettiamo una cospicua partecipazione di giovani e meno giovani, in modo da incrementare anche il nostro database per selezioni attive o potenziali. Ci aspettiamo un proficuo scambio di idee, di notizie e aggiornamenti, oltre che una buona visibilità del nostro gruppo in un territorio come Ragusa. E' tra l'altro molto interessante per noi partecipare a Jobsud perché è proprio per l'impostazione che viene data, ovvero per l'importanza che viene data ai canali di comunicazione, che sono dei canali dalle potenzialità enormi per la ricerca e nuove risorse. Grazie mille e buona continuazione. Grazie.